NEL RICORDO DEI SANTI INNOCENTI 28 DICEMBRE 1977 Figli miei, siate benvenuti e siate benedetti per questa vostra visita, così ricca di fede ed amore. Io vi accolgo fra le mie braccia e vi prometto assistenza ed aiuto in tutte le vicende della vostra vita, perché possiate compiere sempre bene il vostro dovere e possiate, con la missione che vi fu assegnata, collaborare alla diffusione del regno di Dio nel mondo. I santi innocenti, che oggi la Chiesa ricorda e festeggia, sono un segno per voi. Essi, senza conoscere la fede, diedero il loro sangue per Gesù e pagarono con la vita i peccati dell'egoismo umano. Voi sapete quanto è doloroso al mio cuore il sacrificio di animi innocenti, eppure nel mondo non si fa che attuare questa immolazione. Voi capite che voglio parlare di quei bambini che vengono abortiti e a cui non si vuol concedere di vivere. Sono peccati che gridano vendetta al cielo e che attirano castighi sulle famiglie e sulla società. Ma vi sono altri innocenti che vengono sacrificati dalla cattiveria umana? Sono coloro che vengono scandalizzati e, perdendo l'innocenza, perdono anche il gusto della virtù. Figli, questa vostra visita si è indirizzata a dare consolazione al cuore di Gesù, e sia come una promessa a voler preservare il più possibile i bambini e i giovani dal male. Figli, siate santi! La grazia di Dio dimori sempre nell'anima vostra, perché ogni sacrificio da voi compiuto assuma il valore di un dono di valore infinito. I santi innocenti godono ora nel cielo i frutti di una vita breve, spesa per il Signore. I bambini sacrificati dall'egoismo umano, abbiano da voi, nella comunione dei santi, quel battesimo di desiderio di cui vennero privati, e possano godere della visione beatifica di Dio. E l'esempio della vostra vita intemerata si è di guida a coloro che per l'inesperienza e la giovane età, potrebbero cadere nel pericolo. Per tutto ciò che fate e che farete, io vi benedico. Siate custodi di Gesù nel cuore dei buoni, e portate il suo profumo dovunque. Arrivederci, figli! Vi amo tanto!